Vicino a questo cimitero trovo da dire soltanto la guerra è una follia. Non si è ancora spenta l'emozione per quel grido fermo e dolente contro la follia della guerra. Parole riprese anche ieri da Papa Francesco che sabato ha parlato e pregato per la pace davanti a migliaia di fedeli al Sacrario di Redi Puglia. La lunga diretta di Telequattro che ha raccontato lo storico evento fin dalle prime ore del mattino è stata seguita da oltre 150.000 persone con uno share medio del 7,2% ma con punte di oltre il 13%, davvero grandi numeri, in particolare durante l'Omelia del Santo Padre e nel corso di tutta la celebrazione della Santa Messa. L'angelo di ieri ha ribadito ciò che ha detto a Redi Puglia che la guerra è una follia ma quello che a me maggiormente ha colpito è da dove è partito con la sua omelia. A me non importa. Come non importa? È l'indifferenza. Il problema di oggi è l'indifferenza nei confronti dei veri problemi, dei grandi problemi e anche della vita di ogni giorno. A me cosa importa che ad altura è stato accoltellato una donna? A me cosa importa che viene sequestrato un giovane da una ganga? E questa è la gravità del fatto. Cioè è necessario che noi ritroviamo il senso civico e il senso della solidarietà concreta nei confronti dei valori e dei fatti che possono veramente cambiare il nostro modo di vivere. Grazie. Grazie.